Sarà sfida fino all'ultimo minuto per accaparrarsi Riccardo Martignago, una corsa alla quale si è iscritto anche il Como, nono nel girone A di Serie C, il raggruppamento nel quale la scorsa stagione Martignago ha disputato il suo miglior campionato. Se il primo posto infatti è ormai destinato al Monza, in grado di entrare a pieppari sul mercato portandosi a casa José Macin, i lariani sono in piena corsa per un posto play-off. Anche in questo caso la società lombarda Alteramo ha chiesto informazioni sul giocatore che potrebbe cambiare squadra in prestito fino al termine della stagione. Soluzione inevitabile quella della partenza, visto le due mancate convocazioni per Martignago, sia contro il Catanzaro che contro la Cavese, e gli allenamenti a parte di questi giorni. L'esclusione doppia da due impegni importanti e nei quali poteva tornare utile hanno intaccato anche il ragazzo che in questo momento spinge per la cessione entro domani. Impossibile infatti ricucire uno strappo troppo grande col Teramo che invece, anche viste le difficoltà di reperire sul mercato il sostituto, starebbe pensando alla permanenza. Insomma le parti sembrano essersi ribaltate, perché ad inizio gennaio, anche nelle valutazioni di dicembre, il diavolo aveva inserito Martignago nella lista dei sicuri partenti, ma dopo quasi un mese non c'è ancora la destinazione definitiva, mentre Cianci già da qualche giorno si è accasato al Carpi. Passano i giorni e il Teramo starebbe pensando che in fondo tenersi in Martignago non sarebbe poi così sbagliato, anche per un solo fatto numerico. Il problema è che nel frattempo le vicissitudini e il fatto di essere stato messo chiaramente ai margini del progetto tecnico inducono l'attaccante adesso a voler cambiare aria. Dall'Alessandria prima alla Feralpi Salò fino al Catania all'Arzignano prima dell'inserimento del Como, le formazioni che si sono presentate alla porta del Teramo sono molte, ma sempre con una richiesta di prestito per sei mesi, per poi restituire il calciatore al diavolo che ha ancora un anno e mezzo di contratto, scadenza giugno 2021. E allora il Teramo riflette, se proprio con Martignago non si riesce a far subito cassa, conviene davvero privarsene? Anche considerando che gli obiettivi più o meno palesi dei biancorossi si sono rivelati impossibili da raggiungere per svariate ragioni. Citro è ed è sempre stato un sogno proibito e il Frosinone adesso lo ha anche tolto dal mercato. Mokulu si è accassato al Ravenna dopo essere stato scaricato dal Padova, mentre l'ennesimo rumor legato a Caccia, svincolato, non trova conferme. Vendere Martignago a questo punto significherebbe sguarnire ancora di più una prima linea che rimarrebbe con Magnaghi, Minelli, Bombaggi e i giovani K e Birligea. Poco, troppo poco per pensare di poter sovvertire un trend che vede nel numero dei gol segnati il diavolo tra le formazioni messe peggio e con un centrocampista adattato al ruolo di punta come Bombaggi, il capo cannoniere. Solo dieci i giocatori a segno in stagione, ma c'è chi, ad esempio, come Minelli e Cristini lo ha fatto solamente in Coppa Italia e chi, come Cianci, ha già fatto le valigie. Le ultime ore di mercato potrebbero portare novità. Quello ufficiale, invece, è per la stagione prossima e si chiama Salim Diakite. L'esterno destro dell'Agnonese, classe 2000, ha fermato un contratto di tre anni, ma diventerà bianco-rosso solamente dal primo luglio.